Ospedale unico a Muraglia? Seri smentisca con i fatti o si dimetta? Parole forti arrivano dal consigliere di progetto Fanno Alberto Santorelli dopo aver saputo di un incontro avvenuto ieri in Regione sulla sanità provinciale al quale erano presenti il presidente delle Marche Luca Ceriscioli e i sindaci di Fano e Pesaro. È stato un incontro dal nostro punto di vista sconcertante perché il sindaco Seri pare esserne uscito malconcio da questo incontro dove Ceriscioli e Ricci gli hanno sostanzialmente imposto il nuovo ospedale a Muraglia con la prospettiva dell'ospedale Santa Croce come luogo di lungo degenza ospedale di lungo degenza e quindi questo sarebbe veramente devastante per la città di Fano e si esterebbe un capo definitivo della nostra città rispetto alla città di Pesaro. Questo era già nell'area da tempo, prosegue Santorelli, sono mesi che lamentiamo di un'amministrazione succube della volontà della vicina Pesaro e in generale del PD. Dagli eventi all'azienda pubblica dell'Asete d'oggi ha detto ci troviamo di intervenire sul tema più importante per i cittadini, la sanità e la salute pubblica. Per un anno non è stato fatto nulla, è stato fatto un incontro invece ieri in barba anche a tutti i sindaci dell'area vasta che potevano invece dire la loro e anche rivendicare un luogo idoneo per un polo provinciale di eccellenza. Invece da qui alle prossime settimane vedremo un crescendo di arroganza da parte dei pesaresi e del PD nei confronti della nostra città e vedremo un sindaco accettare questo. Questo è inaccettabile, pertanto il sindaco Seri smentisca da subito con i fatti e con tutto quello che metta in campo, tutto quello diciamo di cui può disporre per evitare questa cosa oppure dica ai cittadini che non è stato in grado neppure di difendere la sanità fanese e se ne va da casa.